buongiorno in questo bellissimo paesaggio della primissima primavera è il 30 marzo e oggi sono nella località località le meschie sopra peveagno provincia di cuneo e saliò sul monte bisalta o besimauda che dir si voglia che la montagna diciamo che sovrasta cuneo è una bella salita super diretta fino fino a 2002 il tempo non è non è bellissimo comunque non è male e fa caldo quindi la neve che adesso incontrerò non ce ne sarà tanta ma un po ci sarà e sarà bella molla e però dai si sale su bene secondo me a dopo buongiorno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.